ecco, vado subito fuori capo perfetto ecco, adesso troppo a destra ecco, si, lo chiamate Grazie. 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 Ma come mai l'hanno messa proprio nella terra? Eh non lo so. Guarda, vuoi dire? No, no mi sembra molto... Sarà il paletto bianco. Può essere un aspetto ottico. A questo può essere che c'errà. Fabi, Fabi, puoi fare come ho fatto io? Ecco, l'ho detto. È vicino però. Oh! E' un'altra volta, no? Vaffanculo, rosicato. No, voi diceva, mi è andata io. No, non è andata io. E' un'altra volta. Grazie.